Formazione locale, guidata da Micchi. Dopo qualche minuto di gara, Rocchiccioli tenta il cross in area. Sul primo palo è però bravo Capitano Fatticcioni a respingere la bandierina. Intorno al ventesimo torna a rendersi pericoloso il River Pieve, ma questa volta è Gambini a metterci una pezza. I padroni di casa martellano il centrocampo nero azzurro, che non riesce nella prima parte di gara a mettersi in mostra. Ne approfitta così il River, ancora in avanti con Cecchini, che prova il cross dal fondo, ma trova la mano di Gambini, che manda sopra la traversa. Quasi allo scadere della prima frazione di gioco, arriva finalmente la prima occasione nero azzurra degna di nota. De Pasquale, in corsa dalla metà campo, serve Chiaramonti, che prova il tiro. Sul tacco di Falchini, verso la rete, in scivolata Petretti, tocca con la mano. È calcio di rigore per i nero azzurri. Dagli 11 metri è proprio Bomber Falchini a insaccare le spalle di Tonarelli, la palla che vale l'1-0. Nella ripresa il Cascina, forte del vantaggio conquistato, riprende in mano le radine del gioco e tenta subito l'allungo. Borgia, dalla destra, prova il cross per Materazzi, ma la palla viene rispinta sul fondo dalla difesa bianco-rossa. Il River incassa e risponde, con un contropiede dalla metà campo che sorprende la difesa nero azzurra. Gambini è reattivo però e rispinge il colpo raffiginato. Passa qualche minuto ed ecco il gol del 2-0. È il solito Borgia a creare la situazione giusta. Dalla destra, cross in area, sfila Falchini per Chiaramonti, che con un colpo facile non può sbagliare. Ormai i nero azzurri sono incontenibili e grazie ad uno scambio bellissimo tra Borgia e Falchini, arriva anche la rete del 3-0 con un gran colpo di testa. Negli ultimi minuti ci prova anche il neo entrato Livotto, con un tiro dalla distanza che lambisce l'incrocio dei pali. Ultimissima occasione per il Cascina con Chiaramonti, che sfiora clamorosamente la sua prima doppietta in nero azzurro. Grazie a tutti.